Sono molto contenta e onorata, sono tanti anni che faccio sport e sicuramente anche riguardo alla tematica delle violenze per le donne lo sport può avere un ruolo importante, sicuramente insegna che anche le donne possono fare cose straordinarie, almeno come gli uomini e poi può aiutare a dare consapevolezza di sé, sicurezza di sé quindi a non sottostare alle brutte cose che possono capitare Sì, è vero, innanzitutto è un diversivo dalla vita quotidiana che a volte può diventare fatta soltanto di lavoro, di obblighi soprattutto per le donne, a volte lo si pensa ancora lo pensano gli uomini, ma a volte lo pensano le donne stesse e non lo devono fare, un'ora si trova sempre per sé stessi e si dà anche un buon esempio ai figli che osservano che la propria madre ha delle passioni e vive per loro ma anche per il resto Sì, a quanto pare sì, essendo la mia prima esperienza come mezza maratona, visto che ho iniziato da poco e anche da poco ho iniziato a lavorare quindi sono riuscita a conciliare bene o male il tutto credo abbastanza bene E poi questa maglietta è importante per i valori che dico? Assolutamente, perché questo come abbiamo già ripetuto più volte dimostra che anche le donne, al pari degli uomini possono fare quello che vogliono e possono anche volersi un po' bene proprio per dedicare un po' di tempo a se stesse perché questo è sinonimo appunto di volersi bene Grazie a tutti